Ciao ragazzi io sono Loh e vi do benvenuto su Cimasso TV Eccoci qui con la trediciassima parte Lima dei che sovi 5 di Phantom Pain In questo momento siamo alla mother base Mi sembra che avevo messo A fare delle piattaforme Mi sembra, un attimo che vedo Gestione della base Sto facendo la piattaforma di sviluppo E di supporto Ok allora Chiamiamo subito l'elicottero E partiamo Oh Didi È cresciuto Il resto aspetta te Didi vai Ecco Didi Finalmente è pronta a partire con noi Abbiamo un nuovo compagno E non vedo l'ora di vedere cosa è in grado di fare Ecco qui Didi e Big Boss Tutti e due con la benda sull'occhio Pronti a partire per una nuova missione Ok Portalo con te Ovviamente lo porterò con me Andiamo Siamo pronti a partire Per una nuova missione Finalmente abbiamo un nuovo compagno Oltre a D Horse Didi Ok ecco che stiamo per partire Ok ecco che stiamo per partire Questa volta ha chiuso lo sportello Prima di salire di quota Va bene ecco cosa che si saluta Ecco qui Didi Eccoci qua all'elicottero Allora Andiamo Facciamo le missioni Questa qui Rinforzi e supporto I guerriglieri ribelli Stanno lanciando un'offensiva E eliminiamo il maggior numero impossibile Di veicoli da combattimento Per indebolire i rinforzi sovietici E accettare la missione? Si Allora Dove ci facciamo? Qui Ci siamo in questa zona di atterraggio Episodio 9 Rinforzi e supporto Back up Back down Ok Rinforzi e supporto Ecco l'episodio 9 Questa missione l'avevo saltata Perché Non avevo lanciarazzi Non ho ancora lanciarazzi comunque Va sito obiettivo E eliminare il maggior numero possibile Di veicoli da combattimento a nemici Allora Potremmo usare C4 In questa missione Saremo di supporto all'offensiva Di guerriglieri Ciò significa che La fine della nostra missione Dipenderà dall'ora Tieni d'occhio il tempo restante Allora È una missione a tempo E vediamo quanto tempo avremo E ricordati che non sarà Ok La missione fallirà Riguardo a compenso Più veicoli distruggi E più guadagneremo Allora Dobbiamo cercare di Distruggere il maggior numero di veicoli possibili Ok qui ce n'è uno Allora Ok Va bene Quindi dobbiamo sempre controllare l'Hydroid Per vedere se arrivano nuovi veicoli E robe varie Ok scendiamo subito qui e partiamo subito con Rehorse Vai Rehorse Veloci 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 Allora il primo veicolo è quello Dobbiamo cercare di Fermarsi davanti a lui E Distruggerlo Allora Sì sì dobbiamo Superarlo Dai Rehorse La possiamo fare Di qua di qua di qua Perfetto andiamo di qua Di qui di qui di qui di qui Allora è il Il caro armato Allora Non c'è quel che è scorciatoia di qua Vediamo un attimo con l'Hydroid Sì Non penso proprio Allora dobbiamo riuscire a superarlo in qualche modo Dobbiamo andare da qua sopra Dai Che Beh anche quel caro armato non è lento Purtroppo Ok Ok allora lì c'è una base Sì sì Andiamo avanti Di qua di qua No ma Così a caso mi ha visto Ok Rehorse Ok ci siamo qua Qui Dovrebbe passare per di qua sì Sì Ok Allora Pizziamo le C4 Ah no Non serviva Va bene Allora 3 C4 bastano Che stupido Allora Inizioni Lancio rifornimenti Armi C4 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 Allora Drop point Qui Ci saranno qui Ci saranno qui Allora Vediamo sì che sta arrivando un altro veicolo Di qui di qui di qui Oh cavolo Dai Devo arrivare in tempo Allora Rehorse puoi andare in acqua Grandissimo fratello Allora andiamo scendiamo qui di qui Dai perfetto 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 Dai che possiamo arrivare In tempo Dai 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 Ok Allora i C4 sono quasi arrivati Nel punto Ok Qui Perfetto Prendiamoci C4 Allora il caro ramato dovrebbe passare di qua Vediamo da che parte sta andando Sì sì è quasi arrivato Uno Due Tre Aspettiamolo qua Dentro l'erba magari Spero che non mi veda Devo tenere d'occhio i C4 Allora quando mi avvicino io comincio a spostarmi Ok Adesso Perfetto Perfetto Adesso Adesso C4 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 Allora sta arrivando un altro Qui Sempre qui Allora sta arrivando un altro Sempre qui Allora sta arrivando un altro nemico Allora E Oslo ci ha detto anche che Se è un veicolo Con un Prigioniero E di salvarlo solo se abbiamo tempo Ok Stanno arrivando i nostri C4 E si sta avvicinando anche il caro ramato Ok 200 Dai dai che ci possiamo fare Allora Ok sono quasi arrivati 10 minuti al termine della missione Ecco qua Dai dai boss 400 metri Ok E' qui è qui è qui Se fa l'altro giro Io sono morto Allora aspetta un attimo che Per vedere sul giro ufficiale No perché Vorrei essere sicuro al 100% L'avevo detto io Che faceva l'altro giro Quindi devo andare a fermarlo da qui Da questa parte Però qui c'è la strada Di sicuro passerà per di qui Non può passare da l'altra parte 1 2 3 Dai perfetto Gli stanno avvicinando anche le nuvole Come ci hanno detto L'unità di supporto Ok Allora dove sono i miei dannati C4 Ok Eccoli là 3 2 1 Vai L'integra dovrebbe esplodere tra un po' Vediamo che succede Bene Bene Ok Altri nemici in avvicinamento Vediamo un attimo da dove Ok sta arrivando dalla Chiamiamo altri C4 Sbaglio sempre Lancio i fornimenti armi Qui C4 Allora Qui per piacere Ok andiamo Ah lì si stanno avvicinando gli altri Perfetto Allora prendiamo Qua Andiamo a cercare di prenderli in testa Colpirli in testa Perfetto Perfetto Dove andare dall'altra parte in qualche modo Di qua Si si ho capito Come faccio a salire da Non posso salire Non posso salire Allora un alleato morto Vabbè cavolo Che idiota che sono Ok passiamo per di qua Dai di horse Salvami almeno tu Di qua di qua di qua Prima che arrivi il maledetto carro Allora L'altro carro armato Se ne è andato ormai Ed è inutile Seguirlo Allora Prendiamo su questo Qui Vai su Speriamo che ci succeda la faccia fratello Ok allora Allora In teoria quel carro armato uscirà dalla nostra area Uno Due Tre Allontaniamoci subito Perché se no Sono morto No tre Due Uno Vai Però un po' esplode No di horse Spero che non ti succeda niente fratello perché Sei tanto vicino Ok Versaglio distrutto Dove Non è quel camion che sta arrivando Vabbè Allora abbiamo perso un bersaglio Ok Qui c'è il loro camion Si sto vedendo Ok stanno arrivando da la Allora subito Chiamiamo un po' di C4 Dai veloce boss Qui Ok andiamo Di dietro c'era il ponte Andiamo di là Si si dai Che cosa possiamo fare 5 minuti al termine della missione Mi ero dimenticato del tempo Ok andiamo di qua Si ho visto Lo so Lo so Ok ci siamo quasi Ok Stanno per arrivare Stanno per arrivare i nostri C4 E di là si sta avvicinando Un camion Ok tra dieci Ok eccoli qua Ecco il C4 Però c'è boss Entra dentro 4 minuti Al termine I carri sono abbastanza lontano Quindi possiamo andare Avvicinarci con di horse 800 metri Sì 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 Andiamo avanti Vai Ok eccoli là 1 2 3 Spero che li vieni di qua Sì 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 No ma che No ma che Ok Ok Tenete gli occhi aperti Vabbè quello la io Non riesco Non riuscirò Non riuscirò A farlo fuori Allora andiamo a vedere Del camion che parlava Osserot Ancora 3 minuti Lì c'è Qualcosa Eh sì il camion In bocca Qui Ok Qui c'erano Le armi Prendi 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 Allora dovrei riuscire A arrivare dal Carro in tempo Per farlo fuori Ok no Ok Non mi interessa Ok Lì c'è il carro armato Io devo farlo fuori A tutti i costi Ho detto A tutti i costi Ho detto Spero che D-horse Non muoia perché Non so se può morire Ho agganciato No ma che Sì Ok Perfetto Ok Ok Ci serve L'elicottero Elicottero Ponto di recupero Questo Ok Ok E' la granata E' la granata No dico L'abbiamo fatto fuori Proprio in tempo Ok Facciamo fuori quelli che rimangono Voglio tornare indietro E' eccolo E' partito da un razzo così a caso E di lui E di lui Non è rimasto più niente Allora P-Quad non si sa che fine ha fatto Non è più arrivato Ehi boss ti sei cagato addosso Non so che era difficile sta missione Ma cagarsi addosso Non va Ok P-Quad è quasi arrivato Dai che questa missione è stata molto difficile Chiamare i C4 Prendere Ok Hanno perso il contatto visivo E noi saliamo sul nostro elicottero E partiamo di nuovo Partiamo di nuovo Allontaniamoci dall'area di missione D-Horse è partito in aria Come sempre Col Fulton E mi chiedo Come fanno a prendere le cose che parto con Fulton E' un mistero O forse sono io l'unico che non lo sa In movimento Chiudiamo qui E riposiamoci Con la cacca nei pantaloni Acquisito personale con nuova vitae L'unità medica è salita a livello 5 O ecco però è arrivato Sì Ancora a livello 5 sono Unità di ricerca a livello 9 Va bene ragazzi Per ora ci fermiamo qui Ricordate di mettere un mi piace E di iscrivervi al canale Ciao ciao Ancora in territorio nemico Stiamo cercando Il centro operativo di quel colonnello Che si trova in questo villaggio qui Uno dei nemici ha visto No sta bene Non sa stare agli scherzi Era solo uno scherzo Anna Cosa avete fatto? Stavamo solo scherzando Beth Niente di senso